E magari se si siede qua, senza far vedere i numeri però, questi numeri no, a limite, fai così, scenduta, scenduta, vai, c'hai tutto, qualcosa in mano, i vaial. Grazie. Meglio prima, se è così perché sennò mi nasconde. Me lo ripeto un paio di volte ancora più piano. Sennò ci rende solo uno. Voi si abbassi pure la mano. Ecco, così. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie.